In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Rito, dichiara Schettino Francesco, colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 1122 del Codice della Navigliazione, contestata in relazione al delito di naufragio, e quella della colpa cosciente in relazione al delito di omicidio colposo plurimo, applicati gli aumenti per l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 3 Codice Penale, in relazione al delito di naufragio, di cui all'articolo 589,2 Codice Penale, nonché di cui all'articolo 112,1 numero 3 Codice Penale, in relazione alle contravenzioni dolose di cui al Capo B, unificate le suddette contravvenzioni nel vincolo della continuazione, e ritenuto infine il concorso formale tra i due reati di quel Capo C, lo condanna alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e mesi 1 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.